E' scossa e provata la mamma di 38 anni indagata per omicidio stradale e lesioni dopo il tragico incidente all'asilo primo maggio di Pile che ha spezzato la vita di Tommaso, quattro anni appena, e ferito suoi compagni. Alla presenza del legale Francesco Valentini è stata interrogata dal sostituto procuratore Stefano Gallo, titolare del fascicolo. La donna ha raccontato la sua versione dei fatti per tentare di ricostruire quanto accaduto. Ha spiegato di essere scesa dall'auto per riprendere le gemelle a scuola lasciando in macchina l'altro figlio di 12 anni. Ha raccontato poi di aver spento il motore, di aver inserito la marcia ma di aver dimenticato di mettere il frano a mano che nel caso della sua macchina è automatico. Scesa per riprendere le figlie a scuola ha ribadito di aver visto l'auto in velocità, scendere per la discesa con il figlio dentro che nel frattempo però battendo la testa era riuscito a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo e urlando mamma. La donna ha anche detto più volte che ha tentato lei stessa di fermare la corsa folle della macchina con le mani. Macchina che ha sfondato poi le recensioni andando ad investire piccoli che ignari di tutto erano accovacciati in giardino a giocare. L'ipotesi della difesa quindi è quella dell'errore umano. La donna ha detto tutto tra le lacrime a un momento di profonda sofferenza anche per lei e la sua famiglia. Piangendo ha aggiunto che il bambino gli ha detto di aver inavvertitamente torto la marcia. Per poter disinferire il freno a mano elettrico che è un pulsante il veicolo deve avere il motore acceso invece era spento quindi non è stato sfrenato con un gesto volontario quello di premere il pulsante anche perché il bimbo avrebbe poi dovuto inserire la marcia. Ieri è stato eseguito anche l'esame autoptico sul piccolo Tommaso. Meno invasivo possibile hanno detto i regali della famiglia d'Agostino e da quel che emerge la morte del piccolo è compatibile con i traumi riportati. Ora la ricostruzione dell'incidente da parte della Stadale che era a fare rilievi anche in questi giorni e la perizia tecnica del consulente Cristiano Ruggeri dovranno accertare anche se i traumi riportati possono essere stati causati dalla caduta della cancellata dall'urto con la macchina o da tutti e due fattori. Il consulente ha fatto altri rilievi sull'area sequestrata. L'avvocato Valentini che difende la donna ha nominato anche un consulente proprio. Ora si attendono i 60 giorni per avere l'esito dell'autopsia, 90 per la perizia della Stadale. Accanto a questa parte più strettamente legata all'incidente in sé c'è tutto l'aspetto legato alla sicurezza della scuola da valutare. La cancellata ad esempio che non è sembrata proprio stabile a delimitare un luogo dove i piccoli giocavano abitualmente e si dovrà anche accertare se c'erano norme per l'uso del parcheggio che i genitori utilizzavano giornalmente. Nel parcheggio non è presente segnaletica. Insomma a 360 gradi si sta scandagliando la struttura e l'area adiacente concentrandosi molto sui parcheggi. Un filone che potrebbe portare ad un allargamento dell'inchiesta e che non è di poco conto considerando che la scuola al di là dell'incidente in sé dovrebbe essere un luogo sicuro sopra ogni cosa.